Almeno dieci minuti, sì. Però è atmosfera natalizia, non è che è fatta apposta. Ci stiamo andando tanto bene. Buone, dai, buone, buone. Finale, rigore, rigore. Se questo è... BALLO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! È impazzito l'arbitro. Poteva essere fallo, sì. La coppia della regina con il numero 11, Santatore San Domenico!